Cari lettori di Extreme Hardware, oggi abbiamo il piacere di presentarvi l'analisi tecnica della parte interna del Cooler Master 690, la terza revisione precisamente. È un cabinet davvero molto elegante in quanto presenta finitura di assoluto rilievo, ad esempio due strisce argentate laterali e un'intera finitura in mesh che permetterà quindi un miglioramento della ventilazione dalla parte frontale, dalla parte superiore, ma soprattutto anche dalla parte laterale. In quanto permette l'installazione di una ventola da 200 mm nella parte frontale già preinstallata, poi successivamente di due ventole da 120 mm o 140 mm nella parte superiore e una ventola da 200 mm nella parte laterale sinistra, sinistra vedendo il cabinet dalla parte frontale. Innanzitutto, a parte le finiture estetiche che comunque troverete analizzate e potrete visionare nella recensione scritta, in questo video mostreremo le caratteristiche tecniche all'interno e nella parte posteriore, quindi una semplice analisi a livello strutturale e generico. Per quanto riguarda l'interno possiamo dire che il cabinet presenta una predisposizione davvero interessante, soprattutto per alcune funzionalità che sono uniche per quanto riguarda i modelli della concorrenza. Innanzitutto questo bay per gli hard disk, bay che possiamo rimuovere tramite l'avusiglio di 8 viti, qui ne mostriamo 4, ma che può essere posizionato in relazione appunto alle necessità che abbiamo. Ad esempio qui vediamo che ci sono due serie di fori in queste due linguette metalliche che permettono lo spostamento di questa paratia verticale e permette l'installazione di 1, 2, 3, 4 SSD. Come SSD? Come SSD? SSD sono da 2,5 pollici, queste sono paratie per periferiche e per dischi appunto da 3,5 pollici. Beh la questione è semplice, perché Cooler Master ha ideato un sistema che permette uno scorrimento davvero molto facile del sistema di montaggio e che trasforma quindi una predisposizione da 3,5 pollici in una da 2,5. È davvero immediato. Quindi l'installazione è davvero immediata. La predisposizione all'interno del cabinet è altrettanto veloce e la cosa quindi che ci ha colpito è la poliedricità, in quanto qui è installata una GTX 480 ma spostando questa paratia laterale sarà possibile installare schede video più lunghe, ma è possibile ovviamente anche rimuoverla e quindi creare un canale di ventilazione diretto con la ventola frontale e quindi ampliare a dismisura la compatibilità con schede grafiche sia per quanto riguarda la prima che la seconda a patto che abbiano appunto sistemi di dissipazione reference. Oltre a questo è possibile rimuovere anche il bay inferiore, quindi installare un radiatore da 240 mm nella parte frontale. Abbiamo mostrato delle fotografie nel corso della recensione scritta, quindi appunto troverete tutti i dettagli all'interno. Quindi è un cabinet davvero polietrico per quanto riguarda l'installazione dei dischi e delle periferiche di archiviazione. Possiamo installare un SSD nella parte inferiore, vedremo successivamente tramite le fotografie dirette della recensione come. Quindi è possibile installare un SSD nella parte inferiore e nella parte superiore, infatti non a caso noi abbiamo installato un SSD in questa posizione. Da notare il fatto che anche qui l'installazione è davvero facilissima perché presenta un sistema di blocco degli SSD a scatto con un sistema antivibrazione, quindi è una realizzazione davvero fantastica. Per quanto riguarda la qualità complessiva del cabinet, siamo rimasti molto soddisfatti soprattutto dello spessore del telaio interno che quindi presenta paratie molto rigide, resistenti e soprattutto ben verniciate. Il meccanismo di blocco delle periferiche da 5.25 pollici è davvero molto veloce, l'alimentatore è possibile installare alimentatori molto lunghi, quindi non ci sarà nessun problema di compatibilità per le componenti interne, quindi doppia WG, alimentatore ma soprattutto anche dissipatore, perché qui stiamo parlando di un modello che è alto circa 160 mm e come vedete c'è spazio, quindi all'incirca 170 mm di altezza. La parte posteriore è classica, sono presenti due grandi tubi per sistemi al liquido e un piccolo tubo per altre tubazioni più contenute in diametro, uno slot per l'installazione eventualmente di fan controller o potenziometri e la parte superiore presenta un sistema a filtro removibile davvero molto pratico e veloce. Nella parte superiore, come possiamo vedere nella recensione scritta, è possibile installare dei radiatori molto grandi, tra cui ad esempio un FOBIA da 280 mm. Per quanto riguarda l'installazione, si ha un'estrema facilità, perché essendo la paratia superiore apribile, adesso osserviamo nel dettaglio, ecco facilitiamo appunto la visione, essendo la paratia superiore apribile, è possibile quindi installare le componenti con estrema facilità e questa non è una cosa da poco perché appunto permette di facilitarsi il compito, soprattutto nelle fasi più delicate dell'installazione dei dissipatori e delle ventole. Per quanto riguarda lo scorrimento delle paratie, abbiamo delle paratie che si innestano in una maniera davvero ottimale, perché lo scorrimento è perfetto, lo spessore dell'aggancio verticale, orizzontale e laterale delle paratie è davvero molto solido, quindi non ci sarà nessuna deformazione. Come sono solidi, soprattutto anche i sistemi di blocco delle paratie stesse, questa non è una cosa da poco perché generalmente tendono a essere, non sono così spessi. Da notare anche lo spessore delle paratie, in questo caso quella destra, che presenta quindi una bombatura che permette un'installazione più agevole di cavi e connettori abbastanza spessi. Adesso facciamo una carrellata di immagini della parte posteriore, quindi quella dedicata appunto al cablaggio. Ecco, quindi in sostanza. Nella parte inferiore vedete che abbiamo fatto passare il connettore PS12V che va verso l'alto. Quello è il foro di installazione per una piattaforma 1366, fori passacavi in gran numero, e un fori per l'installazione di cavi che presentano una lavorazione con una bombatura laterale che quindi non presenta guaine in gomma. Nel complesso il cable routing può essere particolarmente buono, però ovviamente c'è da lavorarci su con fascette di cablaggio anche per contrastare appunto le dimensioni complessive che non sono molto elevate. Qui notiamo dei quattro fori che permettono l'installazione di un SSD dall'alto tramite il sistema di blocco che abbiamo già mostrato all'interno della recensione scritta. Quindi in sostanza è un cabinet davvero molto interessante con performance termiche discrete ma che saranno potenziate grazie all'installazione di una ventola da 200 mm laterale e di altre due ventole da 140 o 120 mm nella parte più pericola. È un cabinet davvero eccellente, quindi non possiamo fra l'altro che consigliarvi l'acquisto di questo ottimo modello. Vi ringraziamo per la visione e fateci sapere cosa ne pensate anche della recensione scritta. Grazie a tutti.